martedì sera in diretta alle 21 medicina amica dedicherà la puntata ad un argomento di ottorino laryngoiatria la sindrome rinobronchiale che si presenta con una serie di sintomi a carico dell'apparato respiratorio con gli specialisti dell'istituto figlie di san camillo di cremona il dottore enrico maffezoni direttore del servizio di citologia nasale e il dottor maurizio marvisi direttore dell'unità operativa di medicina e pneumologia vedremo le recenti acquisizioni da parte della medicina in merito alle terapie innovative per curare i sintomi di questa particolare sindrome che secondo gli ultimi studi statunitensi pare sia collegata a un altro organo importantissimo l'intestino